signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e questa settimana andiamo a fare un po di chiarezza su un argomento che a quanto pare è molto più spinoso e controverso di quanto io stesso l'abbia sempre considerato uno dei più vecchi adagi dei master è che della quest come del maiale non si butta via niente questa è un'esortazione a riciclare il più possibile del materiale che voi avete preparato a quanto pare esiste un luogo comune tra molti master secondo cui questo comportamento è qualcosa di intrinsecamente negativo e che fondamentalmente ogni singolo lavoro da master a cui vi approcciate dovrebbe essere creato assolutamente da zero senza alcun tipo di ripetizione questa è la mia opinione personale ma no non è assolutamente vero anzi riciclare il materiale è qualcosa di molto positivo che non solo vi aiuta a risparmiare tempo da dedicare poi ad altri aspetti del masteraggio ma è anche importante nell'ottica dell'automiglioramento come master in questo video cercherò di spiegarvi il perché del mio punto di vista prima di passare ai dettagli del come e perché riciclare vediamo di fare chiarezza sul perché riciclare il materiale da queste campagne precedenti è importante nell'ottica dell'automiglioramento come master senza stare a girarci troppo attorno più volte voi ripetete qualcosa meglio normalmente la fate e più possibilità avete di correggere errori precedenti o di provare a fare le cose in una maniera diversa in questo modo migliorando quello che avete fatto facciamo un esempio concreto diciamo che in una vostra quest precedente voi avete introdotto nell'ambientazione una città e la città per come voi avevate intenzione di renderla agli occhi dei giocatori doveva essere un posto molto cupo opprimente ora magari quando l'avete fatta nella quest precedente vi siete resi conto che i giocatori non l'hanno trovata né particolarmente cupa né particolarmente opprimente quindi magari adesso proverete a descriverla in un altro modo per dare un'idea più concreta di quello che volevate rendere o magari la descriverete esattamente allo stesso modo ma già sapendo che l'effetto che otterrete è un altro quindi questa città non sarà più cupa ma sarà gioiosa e ridente al di là di questo se voi quella città l'avete già usata magari inizialmente avevate previsto che all'interno della città ci fossero determinati luoghi di interesse o anche solo determinati negozi in cui i giocatori potevano comprare delle cose però magari molti di quei negozi non sono mai usciti in queste però i giocatori hanno chiesto altre attività o altri luoghi di interesse da visitare magari poi nello svolgimento della quest avete introdotto roba nuova ora tutto quello che voi avete già visto che non funzionava mancava oppure c'era ma era di troppo nella precedente incarnazione della città può essere corretto e nella sua nuova presentazione a un nuovo gruppo i giocatori dovreste avere la relativa sicurezza che come descriverete la città e quello che ci metterete dentro sarà migliore per il funzionamento della quest in tutto questo sarete anche aiutati dal semplice fatto che sono descrizioni che già avete fatto e magari sono ambienti che avete già preso familiarità nella vostra quest precedenti quindi voi come master sarete più rilassati a descriverli dovrete pensare meno a quello che state dicendo e più agli aspetti concreti di quello che i giocatori vogliono fare c'è anche chi dice che in realtà tutto questo non ha senso ogni quest dovrebbe essere preparata da zero con elementi nuovi ma voglio anche esporre l'altro punto di vista per onestà intellettuale ma lo faremo in fondo al video prima che questo diventi un rant ora andiamo a vedere un attimo nel dettaglio come e cosa riciclare delle vostre quest precedenti se create più quest all'interno dello stesso sistema di regole o se utilizzate regolamenti che sono estremamente compatibili l'uno con l'altro la prima cosa che potete riciclare sono proprio i blocchi delle statistiche dei mostri e dei png il guerriero umano con spada e scudo che avete creato per una quest di dnd potrebbe essere riciclato in una qualunque altra quest di dungeons and dragon in praticamente qualunque ruolo semplicemente di volta in volta verrà descritto come la guardia della città il brigante della foresta il feroce pirata o quello che è abbiamo già parlato in un precedente video del reskin se ve lo siete perso ve lo lascio qua in alto andate a recuperare a seconda di quanto siete spigliati sull'improvvisare descrizioni e di quanti blocchi statistiche avete accumulato per un determinato sistema nel corso dei vari anni di gioco potrebbe risultare talmente efficace come metodo che non dovrete praticamente più scrivere mostri generici ma continuerete a riciclare il materiale che avete accumulato un discorso analogo può essere fatto per la caratterizzazione in generale dei png non tanto per quanto riguarda gli aspetti numerici blocchi e le statistiche ma proprio per quello che riguarda l'interpretazione la caratterizzazione psicologica se la maggior parte dei png che sono introdotti una quest saranno semplicemente nemici generici o comunque personaggi poco importanti che servono semplicemente per il corretto funzionamento di una scena ogni quest avrà un numero minore ma consistente di personaggi che sono effettivamente stati sviluppati che hanno una loro caratterizzazione una loro forma di interpretazione e anche un retroscena che può essere paragonabile a quello dei vari personaggi giocanti nulla vi vieta di trasferire questa caratterizzazione che avete sviluppato per un png su un altro png che in un'altra quest svolge una funzione analoga potreste anche riciclare il blocco e le statistiche ma non necessariamente l'astuto mercante maneggione che nella quest di dnd vendeva oggetti magici di dubbia provenienza al party potrebbe diventare il coyotec di cyberpunk che installa protesi cibernetiche illegale in un garage fuori mano i personaggi avranno due sistemi di gioco diversi statistiche completamente diverse ma al di là di alcuni aspetti di flavor legati all'ambientazione potrebbero essere lo stesso identico personaggio che voi interpretate esattamente nello stesso identico modo in più conoscendone già la psicologia essendo magari già abbastanza abituati a interpretarlo sarà molto più facile per voi reagire in character a qualunque cosa i personaggi decidano di fare per quanto questo sia inaspettato se riciclate gli archi narrativi nulla vi vieta di riciclare intere trame magari intere quest prendendole da una vostra precedente campagna in questo caso qual è il sistema di riferimento diventa relativamente meno importante ma dovete fare più attenzione che le tematiche siano compatibili con quello che state effettivamente masterando sul momento la quest in cui i vostri personaggi dovevano difendere il villaggio dei nani dall'attacco degli orchi potrebbe facilmente diventare la quest in cui i giocatori devono difendere la colonia marziana dall'attacco degli alieni in questo caso non solo potete riciclare i temi ma potrebbero anche riciclare luoghi colpi di scena come abbiamo detto riproporre gli stessi png in salsa fantascientifica sarebbe molto però più difficile riciclare una quest di cyberpunk legata magari al transumanesimo e come le modifiche cibernetiche vanno ad alterare l'umanità del personaggio in un ambiente fantasy in cui queste tematiche non sono importanti non sono così diffuse e magari anche lo stesso regolamento fantasy che state usando non ha delle regole per gestire nei fatti questa meccanica durante il gioco. Infine a voler esagerare potreste riciclare anche un'intera ambientazione con o senza la trama per cui era stata pensata. All'inizio di quest'anno abbiamo fatto molti video sul world building e su quanto sia complesso che era un'ambientazione verosimile e dettagliata quindi una volta che avete perso tutto quel tempo a creare il vostro mondo di gioco potrebbe essere un'ottima idea continuare a usarlo per anni a venire. Anzi ci sono moltissimi master che fanno proprio questo dall'inizio della loro carriera hanno creato un loro mondo e non fanno altro che riproporlo di volta in volta in nuovi sistemi con nuove campagne aggiungendo sempre ogni volta qualcosa per continuare a dettagliare e continuare il processo di world building diluendolo letteralmente in anni di gioco. Ovviamente riciclare l'intero mondo di gioco prevede il riciclo anche di tutto quello che abbiamo detto trame png luoghi e da il vantaggio se magari avete già introdotto quei luoghi e quei png molte volte nel passato ora sarete così bravi a renderli che le cose vi verranno molto più naturali e avrete meno possibilità di sbagliare l'abbiamo detto all'inizio del video. Sul riciclare l'intero mondo in particolare però si viene a creare una divisione interna ci sono due scuole di pensiero tra i master come accennavo all'inizio del video su cui è meglio spendere due parole. Come ho già detto nel video sul non affezionatevi al vostro mondo anche questo lo lascio qua in alto se dovete andarlo a recuperare. Comunque come ho già detto in quel video l'ambientazione serve praticamente unicamente per svolgere uno sfondo alle avventure che i giocatori stanno giocando. Ogni ambientazione per poter funzionare ha al suo interno una serie di elementi e di temi che devono rimanere costanti se non si vuole far perdere di senso all'intera ambientazione. Normalmente a questo ci si riferisce come al canone o come al canon. Mantenere il canon all'interno di un racconto serve a mantenere la sospensione dell'incredulità. Anche di questo abbiamo già parlato trovate il video nella playlist. Lo scopo di questi elementi all'interno dell'ambientazione di un gioco di ruolo è quello di fornire delle basi stabili che permettano ai giocatori di prendere le loro decisioni in maniera coerente. Se i giocatori sanno che una determinata informazione è vera potranno reagire di conseguenza con i loro personaggi. Se per uccidere gli zombie bisogna sparargli in testa i giocatori cercheranno di sparare in testa gli zombie quando li incontrano. Perché questo lungo preambolo? Perché ci serve per affrontare questo minimo di discussione? Cercherò di tagliare corto che già il video è lungo. Molti master ritengono che una volta che qualcosa è apparso all'interno della loro campagna quel qualcosa resti un evento di canon. Se i giocatori hanno ucciso il signore del male il signore del male è morto quello è diventato canon all'interno dell'ambientazione e non può essere cambiato. Questo discorso ovviamente ha senso quello che non ha senso è cercare di mantenere il canone al di fuori dell'arco narrativo per cui è stato previsto. All'interno di una singola quest all'interno di una singola campagna ogni cosa successa rimane tale perché se no i giocatori non potrebbero prendere decisioni razionali ma una volta che la campagna è finita o il gruppo è cambiato non c'è alcun motivo reale per mantenere canoniche delle informazioni avvenute in quest precedenti. Potrebbe ritornare il signore del male e il nuovo gruppo i giocatori potrebbero di nuovo andare a sconfiggerlo nonostante sia stato sconfitto in precedenza perché in realtà quell'evento per il nuovo gruppo non è mai avvenuto. Diciamo che entrambe le posizioni non sono né intrinsecamente giuste né intrinsecamente sbagliate. Molti master vogliono creare un vero e proprio mondo che abbia anche una sua storia e quindi riproporre sempre cose nuove perché in realtà mettono al primo piano l'esistenza e la coerenza dell'ambientazione. Può anche avere un senso però è questo è un puro esercizio intellettuale. Se un gruppo di giocatori non ha mai giocato una quest il fatto che innumerevoli altri gruppi l'abbiamo già giocata non conta. Quella quest rimarrà valida e quindi potrà essere riprodotta perché per loro è nuova. Quello che voglio dire io è che non è che dovete per forza riciclare i vostri mondi o resettare i cambiamenti che hanno avuto durante precedenti implementazioni di quel mondo. Non fatevi semplicemente traviare da quelli che dicono che non resettare mai i cambiamenti è l'unico modo legittimo per poter gestire un'ambientazione perché questo semplicemente non è vero. Diciamo che per questo video è tutto. Spero di non avervi sfattato il mito dell'unica campagna che continua per sempre ma più che altro di avervi spronato a migliorare il lavoro che avete già fatto. Come sempre ora la parola passa a voi. Scrivetemi sotto nella sezione dei commenti dove state all'interno di questa diatriba ideologica e perché quali sono le vostre motivazioni per pensarla in quel modo. Scrivetemi anche se vi è mai successo di dover riciclare o di non voler riciclare e perché. Come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che è dovuta crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Ka e noi ci vediamo nel prossimo video.